Ciao ragazzi, noi siamo i Liarx, Sex Pistols Band Tribute, o Tribute Band, secondo i punti di vista. Vi aspettiamo il 20 di agosto, a Castelli Ieri, Rock Night. E venite numerosi, ci sarà birra, gnocca e tutto quello che si può, venite che vi fa bene, che vi fa molto bene.